Dopo la prima imbiancata per città e provincia, con la neve che non ha fortunatamente provocato eccessivi disagi, sono ora le temperature rigide a caratterizzare questa seconda parte d'inverno che segue a settimane relativamente miti. Non lasciatevi però ingannare dal sole che sarà sempre presente in questi giorni. Si profila infatti una settimana al riparo da nuovi rovesci, ma congelate notturne piuttosto intense, con la colonnina di mercurio che scenderà fino ai 10 gradi sotto lo zero. L'ultima notte dell'anno sembra essere indicata dagli esperti come una tra le più fredde di questo inverno anomalo. Per fortuna fino all'epifania sembra scongiurata l'ipotesi di nuove piogge o nevicate.